Siamo qui con Marco Raggi che espone al Mondial Art Free nella sala personale fino al 3 di luglio. Marco ci vuoi raccontare questa opera, questa tua opera, che cosa rappresenta e qualcosa anche sulla tecnica. Buonasera a tutti. Questa opera qui è una visione, un sogno. L'ho riacciato molto, ho studiato il primitivismo sciamanico, un po' tutte le religioni, ho incontrato molti guaritori, meditanti. Questa qui è la visione di una foresta, una grande foresta e questa tigre è un animale simbolo che in molti paesi del mondo è venerata perché è un animale senza paura, rappresenta proprio la forza dell'energia della terra. E in special modo in India, una divinità che è Durga, la cavalca, cavalca o il leone o la tigre per dissipare l'origine. Infatti allora questa visione è la tigre esce dalla foresta ma Durga non si vede perché Durga è il nome che è colei che difficilmente si può vedere ma lo possono vedere solo gli iniziati, solo coloro che hanno il potere dell'abolizione. Allora lui è rimasto qua dietro però sta arrivando. È anche una immagine per il futuro, per i nuovi tempi dove l'egoismo può essere distrutto da una visione terrena più vicina alla natura, più vicina alla barri e terra. E' appunto la natura che ci aiuta, con questa divinità che poi arriverà, a uscire anche da questi tempi di crisi, di difficoltà. In pratica dobbiamo ritornare un po', come dicevano, dalla terra per essere in contatto con essa e vedere di tornare ai bibliologici. E' un po' questa è la visione di questo quadro. Mi sono divertito anche un'ommaggione che ha intorno a me pure, il pittore. Non ci ha detto che assomiglia molto da un pittore qua in Milano. Sono molto felice perché mi piace molto questo pittore e questo fa continuamente una mostra su Guaglia Bergamo. Veramente sono bellissimi.